Lo sportello d'ascolto è uno spazio individuale, in cui poter chiacchierare in assoluta tranquillità. Un po' come quando fai una passeggiata con un tuo amico un po' più grande. Lo sportello non è un luogo di diagnosi o cura, ma è uno strumento per accogliere i più svariati problemi e trovare insieme la strada giusta per affrontarli. Spesso si immagina di essere gli unici ad averne bisogno, ma come vedi non è così, è una richiesta che fanno in molti. Grazie a tutti.